Sono arrivate all'ospedale di Miccoli di Barletta 3.800 dosi di vaccini AstraZeneca in vista di domani, domenica 21 febbraio, giorno in cui inizieranno le vaccinazioni per il personale scolastico della provincia Bat. La consegna è stata affidata a poste italiane che ha usufruito dei furgoni dell'azienda SDA, attrezzati con celle frigorifere idonee al trasporto del vaccino. Sono 1.622 i cittadini della sesta provincia pugliese, tra docenti e personale ATA delle scuole di competenza comunale, che a partire dalle 8.30 di domani riceveranno la prima dose, una campagna vaccinale che partirà proprio dalle tre città, capoluogo della Bat. Ad Andria saranno 200 i vaccinati, una metà si recherà presso il centro dopo di noi, all'interno della villa comunale, mentre l'altra si sottoporrà alla somministrazione all'interno del liceo Carlo Troia. A Barletta saranno invece 700 i dipendenti scolastici che si sottoporranno alla vaccinazione anti-covid. Le operazioni avverranno all'interno del palazzetto dello sport adibito ad ambulatorio. Nel weekend successivo, ovvero sabato 27 e domenica 28 febbraio, sempre Barletta toccherà ad altri 1.100 dipendenti del personale scolastico e vedrà sottoporsi al vaccino anche i docenti e personale ATA delle scuole superiori. Infine a Trani, al Palassi, saranno 722 coloro che si sottoporranno alla vaccinazione. Intanto a Bari questa mattina sono iniziate le prime somministrazioni all'interno del pala carbonara. L'obiettivo, ha spiegato l'assessore alla sanità allo palco e consentire un ritorno a scuola in completa sicurezza nel più breve tempo possibile. Infine, dal lunedì 22 febbraio alle 15 inizierà anche la vaccinazione degli over 80 con somministrazioni a domicilio e ambulatoriali. Ogni mezz'ora saranno vaccinati 5 utenti e a tutti sarà contestualmente dato l'appuntamento per effettuare la seconda dose. La battaglia contro il virus in Puglia entra nel vivo.